Contagi, tamponi, ricoveri, ma soprattutto vaccini, perché è di questo che si occupa principalmente l'ospite di questa puntata di Malpensa 24 TV che è il direttore socio sanitario della SST Vallorona, Marino Dell'Acqua, che salutiamo. Benvenuto direttore. Grazie, grazie dell'invito. Un anno difficile, siamo alla terza ondata, alla terza fase, dove gli ospedali, alle nostre spalle vediamo l'ospedale di Bustarsizio, è stato uno dei punti di riferimento per la battaglia con il Covid. Partiamo proprio dai ricoveri. Com'è la situazione oggi che l'ospedale ha subito diverse rivoluzioni in questi mesi? Allora, in questo momento io credo che siamo in quella fase di apice dei ricoveri, per cui ci aspettiamo a breve una certa discesa. Già i dati regionali e nazionali stanno dimostrando questo calo. Abbiamo meno tensione sui pronto soccorsi, ma abbiamo ancora tanti ricoverati, sono attorno ai 300 in tutti i nostri tre ospedali che ricoverano pazienti Covid e abbiamo anche una certa tensione sulle rianimazioni, perché abbiamo ancora più di 10 pazienti in rianimazione sull'ospedale di Bustarsizio. Noi ipotizziamo che con l'avvio poi della bella stagione si riducano i ricoveri, speriamo che come l'anno scorso è avvenuto si portino a un livello molto basso, quindi avere solo un reparto occupato per i pazienti Covid in modo di affrontare l'estate in serenità e se la campagna vaccinale funzionerà come io penso, speriamo che non si riprenda con una quarta ondata a settembre-ottobre come è avvenuto l'anno scorso. Ecco abbiamo visto l'immagine, la tenda alla Croce Rossa che è un'immagine di un anno fa quando c'era molta più paura montata proprio davanti all'ospedale di Bustarsizio. Ci spostiamo in un altro punto alla caserma Ugo Mara dove ci sono i tamponi, voi per un periodo li avete gestiti alla Malpensa Fiere, adesso è diciamo una zona sembrerebbe anche più periferica del Covid ma comunque importante in questa fase di pandemia il tracciamento, come sta andando? Assolutamente, noi abbiamo fatto il tracciamento insieme a TS per un periodo abbastanza lungo con tutti i problemi che c'erano soprattutto nel provare a rintracciare tutte le persone che avevano bisogno di tampone fatto a Malpensa Fiera. Per fortuna con l'eserticio siamo riusciti a derivare in altra zona l'effettuazione dei tamponi, noi ci stiamo occupando ancora dei tamponi per le scuole, oggi solo un giorno alla settimana, anche a breve trasferiremo il punto tampone di Malpensa Fiera verso un'altra struttura sul territorio in modo di evitare di avere frammistione tra vaccini e tamponi anche se di poco conto e in più, cosa che non è da poco, abbiamo ancora tutta la parte dei tamponi domiciliari che noi effettuiamo che siamo ancora attorno agli 80-90 tamponi domiciliari al giorno su tutto il nostro territorio logicamente. Ecco, arriviamo ai vaccini che è la materia di cui si occupa nelle ultime settimane, la prima domanda che le faccio è come si allestisce un hub vaccinale che è una macchina molto complessa in due settimane? Sì, io credo che come tutte le cose si parte dall'organizzazione, noi abbiamo creato subito un team molto forte dal punto di vista gestionale, ognuno che affrontava le proprie problematiche specifiche, pensiamo a tutta la parte della farmaceutica, quindi alla conservazione e anche la fornitura dei vaccini verso il centro vaccinale, tutta la parte logistica che per fortuna abbiamo avuto la collaborazione molto attenta della Camera di Commercio, tutta la parte diciamo di coordinamento del tutto con il dottor Magrini che in qualche modo ci ha aiutato soprattutto all'inizio e poi la cosa importante abbiamo creato una nostra organizzazione. Io ci tengo molto perché sembra semplice organizzare un punto vaccinale di queste dimensioni che poi eventualmente descriverò un attimo nel dettaglio, ma si parte proprio dall'organizzazione. Noi abbiamo creato una linea di comando molto rigida perché qualcuno deve prendere decisione, devono essere immediate le risposte, con un diciamo una regia unica che è il dottor Di Fazio che è responsabile della parte vaccinale, abbiamo poi chi coordina la gestione delle vaccinazioni proprio, quindi all'interno dei vari siti vaccinali, quindi dei vari box, che è la dottoressa Palmiere, chi invece gestisce tutta la parte di accoglienza, cioè i rapporti con diciamo le associazioni di volontariato e la protezione civile, cioè quella parte che sembra il secondo grado, invece è quella forse più importante dove la persona che arriva si accorge subito di essere presa in carico, che è la dottoressa Rota, Cristina, e poi abbiamo chi in qualche modo si occupa di tutti gli aspetti igienico-sanitari di una struttura così grande, con una grande affluenza di persone, soprattutto che produce per esempio pensiamo solo i rifiuti, quindi qualcuno che abbia delle competenze igienico-sanitarie, abbiamo la dottoressa Carnielutti Miriam che si occupa di questo, e poi abbiamo chi deve gestire, e poi mi sembra che ne affrontiamo nel dettaglio, la gestione del personale, perché organizzare i turni, soprattutto nella complessità di persone che arrivano per la vaccinazione con modalità contrattuali diverse, quindi dal volontario al libero professionista, al dipendente, a chi dà la disponibilità oltre all'orario di lavoro, quindi questa organizzazione funziona se ci sono delle linee di comando molto forti, questo ci ha permesso nel giro di poco organizzare questa struttura, noi siamo molto contenti, devo dire che bisogna ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, è un successo secondo me, perché nel giro di poco tempo siamo riusciti a organizzarlo e sta funzionando. Ecco, è una grande operazione sanitaria, ma possiamo dire che è una macchina militare, non a caso l'inaugurazione della prima intensa fiera, vediamo anche qualche foto, è venuto il commissario straordinario nazionale dei vaccini, il generale Figliuolo, accompagnato anche dal consulente regionale Guido Bertolaso, vediamo qui le immagini, e loro stessi hanno riconosciuto questo grande lavoro, direttore. Sì, questa è la parte che a noi fa molto onore, nel senso che sia il dottor Bertolaso che il generale Figliuolo, ma anche il commissario della protezione civile ci ha in qualche modo detto che l'organizzazione si vede subito. Questa è la cosa che noi volevamo, che quindi traspare che c'è dietro un ragionamento, c'è dietro un percorso di processo della fase vaccinale che non lascia niente al caso. E quindi noi siamo pronti a vari step, di fatti, lo anticipo adesso, anche se è stato dato la possibilità a presentarsi anche per quelli che, avendo la prenotazione, non sono stati chiamati di over 80, e quindi abbiamo avuto solo oggi un centinaio di persone in più, l'organizzazione non ne ha risentito, perché noi siamo pronti a poter modulare l'offerta in modo molto flessibile. Quindi siete riusciti ad assorbire questo sopra di vaccinazioni. E tra l'altro non funzionano neanche tutte le linee ancora, ma il pensafire. No, questo poi lo potremmo anche mettere in relazione al personale, però oggi la scelta è relativa al numero di vaccini da fare, cioè alle persone della categoria che abbiamo oggi da vaccinare, cioè gli over 80. E a che punto siamo, dottor? Allora, noi siamo in linea con quanto avevamo previsto, quindi stiamo vaccinando 1.200 over 80 più almeno 400 di seconde dosi degli over 80 che avevamo fatto verso il centro vaccinale di Busto, che ci tengo a dire, e questa è un'occasione se me lo lasciano a dire, è chiuso perché stiamo ricevendo chiamate di persone che ci dicono siamo riconvocati per la seconda dose presso l'ospedale di Busto. No, l'ospedale di Busto è chiuso come centro vaccinale e avevamo già indicato il centro vaccinale malpensa fiera come la possibilità per la seconda dose. Quindi siamo ben messi, l'11 di aprile dovremo chiudere tutti gli over 80 che ci sono stati dati in prenotazione e quindi siamo molto contenti. E intanto è già partita anche la prenotazione per gli under 80, per la fascia dall'arco dai 70 ai 79, già da oggi. Sì, diciamo in due step, 75, 79, 70, 74. Noi oggi abbiamo sicuramente prenotati quelli che si riferiscono alla prima fascia, quella da 79 ai 75. Io ho già guardato oggi il sistema di prenotazione che abbiamo completamente già riempito le nostre linee vaccinali per i prossimi giorni, quindi dal 12 al 24 è sicuramente tutto pieno. Ecco, direttore, l'organizzazione funziona se ci sono vaccini, chiaramente, nella misura necessaria e soprattutto se ci sono informazioni chiare. Cosa che su AstraZeneca non sta avvenendo tanto. Vi crea qualche problema queste informazioni così discordanti su questo tipo di vaccino e sul cambio anche della fascia d'età? Allora, i problemi dovremmo ancora verificarli perché le indicazioni del Ministero lasciano una certa disponibilità al centro vaccinale nella scelta di vaccinare con AstraZeneca sotto i 60 anni. Cioè non è obbligatorio, ma è consigliato. Credo che in questi giorni ci sarà invece da parte della regione delle indicazioni un po' più precise da dare ai centri vaccinali. Noi siamo pronti. È logico che nel momento in cui dovessimo spostare ampi numeri verso un altro vaccino dovremmo riposizionare la capacità vaccinale in funzione dei vaccini presenti. Io sono di natura ottimista, quindi io credo che ce la faremo a vaccinare tutti tranquillamente. Avremo forse qualche cardiopalmo nei punti in cui ancora non sono arrivati i vaccini e si spera che arrivino. Per adesso noi siamo tranquilli, speriamo di poter iniziare il 12 con tranquillità. Io credo che la cosa invece importante è avere l'informazione corretta, non per noi, perché noi abbiamo l'informazione corretta, ma da dare agli utenti. Troppe informazioni, io credo, che cambiano un po' le logiche sull'utilizzo del vaccino scompensano molto chi deve venire, perché logicamente si fa dei problemi. Perché io almeno dico questo, ma lo dico così, senza avere poi tutte le competenze per dirlo. Però quanti sono le complicanze che abbiamo su altri farmaci, eppure nessuno lo dice. Cioè nel senso che quante possono essere in percentuale le emorragie da aspirina, lo sappiamo che ci sono, ma non per questo eliminiamo l'aspirina. Anzi, si può comprare tranquillamente anche il supermercato tra un po'. Questo voglio dire. Cioè bisogna dare delle informazioni precise, senza evitare poi di far diventare angoscioso l'aspetto di rapporto con il vaccino, ma dando molta più fiducia ai clinici. Cioè i nostri medici vaccinatori, che sono tutti esperti, sono in grado di indicare esattamente quando è possibile fare un vaccino, se un altro. E' logico, se esistono invece delle indicazioni chiare da parte del Ministero della Salute, noi ne prendiamo atto e opereremo in quel senso, rivedendo la parte di vaccino. Insomma leggere i bugiardini è sconsigliato a volte. Ma sì, anche perché su bugiardino di solito c'è scritto di tutto, di tragedie. Dovrebbero curare, ma in realtà a volte angosciano. Il vaccino non è un farmaco che uno si auto somministra e auto prescrive, quindi bisogna in qualche modo lasciare che proprio il medico... Ecco, quello che può succedere, e qui lo dico accogliendo questa occasione, è che potrebbe essere che in questa fase di incertezza o di ipervalutazione dell'aspetto prescrittivo, qualcuno possa essere convocato in un centro vaccinale con un certo vaccino e il medico sconsigliando quel vaccino lo riprenota in un altro centro vaccinale. Perché purtroppo oggi, perché non abbiamo Johnson & Johnson, dove c'è la monodose, non riusciamo a garantire uno spostamento così veloce, cambiando da un vaccino all'altro nello stesso centro vaccinale. Su Malpensa Fiera invece lo faremo. Avremo linee dedicate a Pfizer, linee dedicate ad AstraZeneca, in modo che chi non può fare AstraZeneca passa a Pfizer in modo diretto. Ecco, per fare questo, direttore, occorre il materiale umano. Sappiamo che è uno dei punti deboli della sanità italiana, non solo della nostra. Sappiamo anche, perché ne abbiamo approfondito anche con il direttore generale dell'SST, che l'azienda sta mettendo in campo da tempo delle politiche di assunzione di personale. Oggi forse più che mai ne serve. Ne avete abbastanza, come vi state organizzando, perché comunque l'ospedale davvero sta uscendo sul territorio. Sì, allora, come ho detto prima, soprattutto pensando a Malpensa Fiera. Noi a Malpensa Fiera possiamo dedicare sino a 30 linee vaccinali. Se noi pensiamo che ogni linea vaccinale ha bisogno, almeno di due infermieri, un medico, più il personale che diluisce, più probabilmente il personale che inserisce il dato, abbiamo una quantità, non da poco, di personale se poi lo operiamo su 12 ore, comprensivo di 7 giorni settimanali. Come arrivare a questo risultato? Noi ci stiamo pensando da tempo, per cui abbiamo intrapreso una campagna di reclutamento che parte dai normali sistemi che ci sono, dagli incarichi fatti da bandi regionali piuttosto che quelli fatti per i volontari da ATS, ma anche andando a definire degli specifici contratti, lo stiamo definendo in questo momento, con i medici di medicina generale, abbiamo avuto tante proposte per venire a vaccinare a Malpensa Fiera, con i medici e il personale dell'RSA che daranno disponibilità forse a prendersi carico di alcune linee vaccinali e quindi anche con loro lo stiamo facendo. L'ordine dei medici di Varese ci ha dato un elenco molto lungo di personale che vuole venire come volontario a fare attività da noi, in più abbiamo aperto un bando interno al nostro personale dipendente che fuori orario voglia venire a fare attività vaccinale. Quindi questo è molto complesso, gestire tutte queste modalità di reclutamento di personale per stabilire la turnistica, perché poi ho capito che tutti sono belli, ma bisogna incastrare i giorni, le ore, no? Questa cosa la stiamo organizzando bene in modo di avere la copertura, oggi problemi non ne abbiamo per le linee vaccinali, stiamo già verificando una programmazione per aumentarle velocemente, in modo di arrivare anche fino a 30 unità vaccinali attive, ipotizziamo perché i vaccini arriveranno e quando arriveranno dobbiamo essere pronti, che per la fine di aprile noi potremo attivare 30 linee vaccinali. In più potremmo avere da parte, anche se riescono a fare degli accordi, su Malpensa Fiera, la possibilità di attivare un ulteriore centro, in una zona sempre di Malpensa Fiera, da dedicare alle aziende, che sono altre 10-12 linee vaccinali possibili da attivare, logicamente in altra modalità, perché è logico... Però questa è una cosa che a noi interessa molto, che vuol dire personale, preparato, che dia questa garanzia. Per cui noi ci stiamo lavorando. L'altra cosa che stiamo facendo con molta attenzione è che noi vogliamo che il personale che lavori in un centro vaccinale così sia formato, competente e soprattutto che dia una stabilità di presenza che porti all'expertise, se no è logico che quello che viene solo per un'ora e poi se ne va, non va bene, perché dobbiamo dare il massimo della garanzia. Abbiamo poi, devo dire, devo ringraziare tanto la Croce Rossa che ci presidia invece l'aspetto dell'emergenza, abbiamo lì a Malpensa una zona dedicata a prenderci carico di quelli che sono i malesseri post-vaccinali che sono per fortuna minori, ma nel caso che fossero invece un po' più particolari riusciamo comunque a gestirli, con tre postazioni da dedicare all'emergenza. Direttore, la ringraziamo. Niente, ringrazio io a voi. E diamo appuntamento al prossimo approfondimento di Malpensa 24 TV. Grazie mille, grazie. Grazie.